Un cordiale buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Andrea Biagioni. In Fifi Lì si registrano 7 km di coda a causa di un incidente tra Ginestra, Fiorentina e Lastra a Signa in direzione Firenze, rallentamenti invece tra Firenze e Scandicci e Scandicci in direzione Livorno. Passiamo alla 11 dove si registrano code a tratti a causa del traffico intenso tra Luca S, l'allaggiamento con la 1 in direzione Firenze e sempre in direzione Firenze, tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Quanto riguarda la statale Aurelia, si ricorda della riduzione di carreggiata tra Pisa Nord e Via Reggio in entrambe le direzioni. Uno sguardo a Firenze, cantiere della tramvia, si ricorda che da oggi, 30 luglio, verrà chiusa via Valfonda fino al 10 agosto, deviazione dei mezzi pubblici sull'itinerario Piazza della Stazione e Via della Scala. Muoversi in Toscana Info è realizzata in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!